Grazie a tutti. Una a Cordovato-Pordenone e una a Trieste. Oltre a questi, in centro Italia abbiamo il stabilimento di rigore. La capacità produttiva di Grandi Molini italiani è di circa 1750 tonnellate al giorno di grano duro e di circa 3000 tonnellate di grano tenero. Questa struttura produttiva è dotata di tre terminal portuali in concessione esclusiva al gruppo Grandi Molini, quattro raccordi ferroviari e ovviamente poi tutti i stabilimenti sono collegati via gomma alle principali arterie autostradali italiane. Nella nostra struttura poi possiamo annoverare anche una centrale per la cogenerazione di energia elettrica da biomassa, che è Sittà Puglia e Venezia, più due parchi fotovoltaici a Livorno e a Coriano Veronese. Venezia è un stabilimento che ha una capacità macinante di circa 2000 tonnellate al giorno fra le due tipologie di grano, di cinque linee di confezionamento differite dai 25 fino al pacchetto da chilo, per poter servire tutti i canali distributivi di questo prodotto. Ogni stabilimento del gruppo è dotato di una propria peculiarità produttiva e organizzativa. Abbiamo degli stabilimenti più votati alla GDO, come lo stabilimento di Coriano Veronese, che è dotato di quattro linee di confezionamento, piuttosto che ai mercati della panificazione artigiana o dell'oreca, come Livorno e Cordovano. Lo stabilimento di Trieste, altresì, non ha linee di confezionamento, ma lavora in filiera per uno stabilimento Barilla di Mugia. I due stabilimenti più grandi del gruppo sono quello di Venezia e quello di Livorno. Venezia, con le sue 2000 tonnellate al giorno macinate, è il più grande d'Europa. Livorno è fra i primi in Italia. Per la propria collocazione geografica, Venezia serve la dorsale adriatica e Livorno la dorsale tirrenica, piuttosto che le isole. Lo stabilimento di Venezia, nel quale ci troviamo, sorge al confine fra mare e terra. Dopotutto è Venezia Marghera. Il nome Marghera proprio deriva da C'era il mare, Marghera, e quindi proprio colloca geograficamente in una posizione strategica questo stabilimento all'interno dell'area che noi serviamo. L'area industriale di Venezia, dove siamo noi, è stata disegnata dal conte Volpi nei primi del Novecento e in questa zona industriale, nel 1929, le famiglie chiari e forti hanno costruito la parte storica di questo stabilimento. Nel corso degli anni, il mercato di riferimento di questo stabilimento si è trasformato dal mercato locale al mercato internazionale. Già nel 1977, da questo stabilimento, partivano navi per tutto il mondo. Per arrivare alla fine degli anni 90, con lo stabilimento di Venezia, primo esportatore al mondo. Lo stabilimento è a grande numero di italiani di Venezia, si estende su una superficie di circa 100.000 metri quadri ed è stato definito un molino a tripla A. Le tre A stanno per alimentazione, ambiente ed acqua. Alimentazione? Beh, noi siamo uno stabilimento alimentare e quindi questa è la nostra vocazione. Ambiente? Lo stabilimento non inquina, non ha delle emissioni in aria, piuttosto che nell'ambiente, nel terreno, nelle acque. Acqua. Acqua è, oltre a essere una componente del nostro processo industriale, è anche la via attraverso la quale il nostro stabilimento si alimenta di materia prima. Di acqua arrivano le navi dai principali porti del mondo ed è il traffico navale il più sostenibile dal punto di vista ambientale. Grazie a tutti.